L'evoluzione dell'e-commerce è sempre di più in realtà verso l'omnicanalità, quindi il trend veramente molto molto importante è quello che fonde appunto l'e-commerce con l'esperienza all'interno del punto di vendita fisico. In questo senso Warline è presente ormai in maniera importante in Italia attraverso l'acquisizione che è stata fatta all'inizio di gennaio di Accepta, quindi si pone con un player molto importante. Il gruppo Warline investerà nei prossimi tre anni oltre un miliardo di euro innovazione ed è il primo gruppo dei pagamenti a livello internazionale, a livello europeo specializzato nel mondo dei pagamenti, quindi un miliardo di euro di investimenti solo nel mondo dei pagamenti per seguire appunto tutte le innovazioni che già esistono e che sicuramente ci saranno sempre di più nel prossimo futuro.